amici di gossip news eccomi ancora qua io sono nat e questa è una nuovissima pillola di gossip arriva l'addio definitivo di giaccarlo magalli alla storica trasmissione i fatti vostri oh my god ce la farò dormire questa notte nonostante inizialmente la notizia avesse il sapore di una fake news oggi è arrivata la conferma ma chi sostituirà il conduttore ora vi racconto tutti i dettagli prima ovviamente l'invito come al solito a supportare il canale vedendo un bel like registrate del canale cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti che sono tanti giaccarlo magari sta per dire addio la storica trasmissione i fatti vostri al cui timone è stato per tantissimi anni anche se inizialmente questa sembra sa sembrasse solo una notizia non tanto vera ora è arrivata la conferma ufficiale mancherà a tutti la conduzione dell'iconico magalli che è stata la guida del programma dal 1991 tanta roba è dopo oltre 30 anni magalli avrebbe deciso di sua spontanea volontà di abbandonare la trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi io pensavo che andasse in pensione mamma mia no uno dice no vabbè dopo 30 anni lascio perdere adesso mi godo i soldini che ho guadagnato me lascia lo vado in vacanza no no si vuole dedicare a nuovi progetti lavorativi quindi non ce lo scassere non fatemi ballare ovvero non ce lo scuderemo le marron five tanto facilmente per lui è infatti già in cantiere un programma nuovo un game show in onda nella fascia pomeridiana sempre su rai dos non sappiamo ancora chi prenderà il posto di magari alla conduzione dei fatti vostri stanno cominciando già a circolare comunque i primi nomi sapete che il totonomi non si ferma mai ma per il momento non c'è nessuna conferma ufficiale ora vi dico qualche nome ma sappiate che come sempre io dico è tutto ancora in forse si mormora che potrebbe subentrare alla guida del programma il giornalista salvo sottile omberto broccoli il primo si occuperà degli spazi storici della trasmissione e il secondo porterà alla luce i casi di truffa affini che affliggono purtroppo ancora il nostro paese e di cui si è ottimamente occupato già in questa edizione del popolare varietà del mezzogiorno della seconda rete della rai ciao zazzi ma in ogni caso i due non saranno soli a finalmente aree di novità ciao giovanni accanto ai nuovi presentatori sarebbe infatti prevista anche la presenza di non una ma ben due figure femminili un po di femminilità in questo programma ci sta accanto ai nuovi presentatori sarebbe infatti prevista anche la presenza di non una l'ho già detto scusate sto ripetendo la frase abbiate pazienza secondo le indiscrezioni riportate tv blog al timone della nuova edizione dei fatti vostri ad accompagnare i presentatori arriveranno due donne a rafforzare il team di lavoro per la stagione 2021 2020 dos i due volti femminili saranno scelti tra personaggi preparati e con già esperienza televisiva alle spalle e vorrebbe vedere voci di corridoio parlano di marisa laurito gloria guida veronica maya e monica leo freddi come papabili coppie rose a rosa alla team al timone della trasmissione dunque una vera e propria rivoluzione i fatti vostri che dopo l'addio di magalli si avvia verso una conduzione più sprint e soprattutto con una cospicua presenza rosa femminile ci sta ci sta altra novità interessante per la nuova stagione dei fatti vostri sarà anche la presenza di comiche al femminile emanuela orelli gabriella germani francesca manzini francesca francesca reggiani teresa mannino sono in lizza per il ruolo staremo a vedere poi chi confermeranno o se magari faranno un po uno un po l'altro staremo a vedere comunque io appena avrò ulteriori news state tranquilli che sarò qui a raccontarvele nel frattempo magalli si dice contento di avere condotto per un periodo di tempo così lungo una trasmissione che non ha mai smesso di riscuotere successo in una recente intervista il giornalista ha affermato che l'addio la storica trasmissione infatti vostri è stato piuttosto doloroso il programma la squadra con cui ha collaborato per oltre un ventennio anzi quasi un trentennio sono stati la sua seconda casa una vera e propria famiglia professionale per lui dice poi di essere pronto a esplorare nuovi format e nuovi programmi anche diversi da quelli fino ora condotta condotti tanto di cappello ragazzi perché nella vita non si è mai arrivati bisogna sempre usare sperimentare essere curiosi novità indipendentemente dall'età e se qualcuno vi dice non è più l'età per fare queste cose te gli di guarda l'età però non ce l'hai te io ce l'ho perché me la sento quindi non rompere gli zebedei ha infine confessato sempre magalli che si reputa una persona felice e con una carriera televisiva alle spalle molto lunghe tutto il rispetto questo già lo sappiamo sarei curioso di sapere che cosa ne pensa adriana volpe discorso diverso confessa magalli che arrivato ormai a 73 anni tra qualche tempo non gli dispiacerebbe andare in pensione e vorrebbe vedere e godersi di più la famiglia e gli affetti che ha dovuto sacrificare per via della carriera perché ragazzi mi dispiace ma quando fai una vita molto al centro dell'attenzione molto da vippone diciamo e la famiglia alla fine inevitabilmente va in secondo piano e a questo punto ragazzi la palla aspetta voi come al solito che cosa ne pensate cosa ne pensate di magalli a parte giovanni che so sicuramente che non gli piacerà perché giovanni vi piace solo all'urso fatemi sapere voi innanzitutto se siete contenti di questo cambiamento di rotta dei fatti vostri oppure eravate così affezionati a magallino che dite no ci dispiace tanto non vogliamo vedere i fatti vostri con un altro programma però mi piace molto il discorso che abbiano deciso di mettere non solo nuovi volti ma anche una presenza femminile che ragazzi male non fa e quindi a questo punto la palla aspetta voi nel frattempo saluto qualcuno saluto giovanni lorello che gode e godi godi o perché sei un menagramma perché deve essere un flop non possiamo saperlo caro giovanni e staremo qui staremo qui comunque giovanni lorello se arriva un milione di iscritti ti prendo come opinionista giuro giuro è promesso promesso l'importante arrivano un milione di iscritti però ci stiamo lavorando ciao zazzi ciao bello alba hiris buona buona stardes meno male che hanno hanno sopporti perfetto io queste queste presentatrici non le conosco neanche io ti dico la verità io conosco solo la manzini e teresa manini teresa manini e quella siciliana ricciolona che mi fa sempre scompisciare le risate le altre sinceramente no è però sono molto curioso di vedere che cosa è successo giovanni lorello se faranno gossip sarà un altro flop il gossip di solito tira sempre però io spero spero mi spiace per te che tu hai torto perché alla fine quando si rinnova bisogna essere premiati solo per il coraggio di rinnovare alessia non mi sono piaciute quelle uscite se sistemi magari sulla povera adriana volpe d'accordissimo con te assolutamente infatti in tutta quella di atriba che è andata avanti per mesi io ero sempre dalla parte di adriana poi non so sinceramente com'è andata a finire perché non se ne è più parlato però sta di fatto che i due sono esseri corti elisabetta mi dispiace sono due dirette che entri mentre sto chiudendo non ce la faccio a salutarti adesso ce l'ho fatta ciao super elisabetta ho capito che oggi non è molto non sei molto e viene da commentare ma non c'è problema io ti voglio bene lo stesso e grazie per la tua presenza marianna guida finalmente finalmente cosa se ne schiodo dai marron five magallino ragazzo trent'anni dietro lo stesso programma ma neanche beautiful voglio dire quindi c'è da dire che se in trent'anni è riuscito a mantenere lo share abbastanza alto da non farlo chiudere in anticipo qui tanto di cappello a magalli e premesso che io non sono un fan di magalli e sinceramente preferisco guardare altro però ragazzi bisogna ammettere che professionista professionista è riuscito trent'anni trent'anni tanta roba è nel 91 nel 91 avevo 21 anni mamma mia e lui era già lì a fare i fatti vostri non ci posso credere veramente mamma mia ciao soffie ciao soffi ciao bella eugenio gentili la laurito marisa laurito ma marisa laurito sinceramente ma non era mica un'attrice cosa c'è non mi sembra che faccia la showgirl però ragazzi sapete che non lo so io il mondo rai non è che lo conosco molto bene perché seguo più media però vabbè poi che magallino infatti che messina hai ragione alex magallon bel cosone bel magallone tanta roba e tantissima roba vabbè vabbè comunque ragazzo rimanete sintonizzati perché finita questa diretta vi devo parlare e ragazzi vediamo se me la finita di preparare no la stancola finendo ma tempo pochi minuti vedevo parlare di uomini e donne sappiate sì sì uomini non è terminato però però c'è una novità non vi voglio spoilerare niente perché sarà una sorpresona quindi registratevi al canale cliccate mi raccomando la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti mettete un like sotto questo video ma non c'è bisogno come lo dica e fatemi sapere che cosa ne pensate nel frattempo che attendiamo che l'articolo sia pronto intanto bevo salute sì sì perché praticamente c'è una novità su uomini e donne mi viene da ridere già a pensarci guarda quindi se siete curiosi rimanete nei paraggi sì uomini e donne lo sapevo lo sapevo vabbè dai per farvi contenti vi spoilerò una cosa che non avevo mai fatto vedere guarda una cosa inedita in print prima visione tv guarda tanta roba mai fatta vedere è la prima volta che lo vedete immagino allora sì uomini e donne a breve a breve pochi minuti mi dispiace per magari ma la rai deve rinnovare qualcosa deve rinnovare tante cose secondo me anche se bisogna ammettere che ultimamente gli sta dando molto filo la torcia la miglia set allora il rinnovamento rai ma anche media set rinnovamento la gente ha bisogno sempre di cose nuove non puoi andare avanti per trent'anni con lo stesso programma mamma mia stessi volti e poi gente nuova volti giovani lo sapevi alessi e non resisto cosa ti devo dire ci provo ci provano un valore c'è il bottoncino c'è proprio un bottone l'ho scritto l'ho rinominato dicendo non toccarmi e lo tocco e mi spiace io sono sempre contro tendenza quindi va che vi devo dire una gemma al giorno leva al medico di torno si dice si dice no diciamo diciamo va bene ragazzi e avete niente da dirmi gemma non avevo dubbi giovanni ma ma sbaglio se un po arrabbiato col mondo intero te o solo con tutti vippo nello spettacolo per curiosità mi dici quanti anni hai super giovanni gemma insopportabile borioso vuole sempre prevalere sull'altro anche se devo ammettere che hai ragione in questo caso hai ragione perché con gemma vabbè o perché vedi però abbiamo iniziato con già marco e con giamalli buonanotte con gamm abbiamo iniziato con magalli e finiamo con gemmalli quanti anni ai giovanni così giusto per curiosità e se hai voglia di dirmelo se non hai voglia fa niente ti voglio bene lo stesso va bene va bene siamo in direttore d'arrivo allora ragazzi gioia non gli piace nessuno facciamo prima sapere che gli piace te lo dico io la d'urso sono la d'urso gli piace giovanni vabbè ma noi lo vogliamo lo stesso così li vogliamo bene lo stesso eugenio gentili magari deve fare un corso intensivo in palestra una panza incredibile ma ormai chi ha fatto cioè e forse anche quello fa parte della sua immagine 52 anni è un anno più di me siamo quasi coetanei hai capito ok interessante interessante roberto massimini suonato tardi mi fai un riassuntino che dite ragazzi se lo merita riassuntino roberto massimini se lo merita glielo faccio non faccio io voglio sentiamo segniamo i follower se i follower mi dicono lì sì te lo faccio in due secondi dai vediamo però bisogno che qualcuno mi dica sì o no e io senza sì senza no non procedo glielo faccio ma sì dai notizia importantissima corto va bene glielo faccio le va bene dai allora magari non dopo 30 anni ha deciso di abbandonare la conduzione dei fatti vostri ma non è finita qui si stanno cercando i possibili sostituti ma gira voce che prossimamente nelle prossime edizioni di fatti vostri ci sarà un nuovo conduttore anzi forse due in aggiunta anche due conduttrice donne quindi quote rosa 50 50 e anche dei comici vedi è stato facile e ti ricordo comunque roberto e a tutti gli altri di restare qui perché tra pochi minuti vi devo parlare di uomini e donne quindi rimanete sintonizzati anche se non ve ne può fregare meno di uomini e donne rimanete sintonizzati perché la notizia è abbastanza interessante vedi vedi che bravi che siete sì 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 bravi bravi quindi roberto massimini si è trovato riassunto al volo devi dire grazie solo ai tutti i follower ovvero tuoi colleghi che fanno parte di questo fantastico canale e che sta crescendo ogni giorno sempre di più e io non smetterò mai di ringraziare tutti voi perché è grazie a voi che questo canale cresce e grazie a voi che faccio queste dirette che ho l'entusiasmo per continuare a darvi minchiavi notizie tutti i giorni nato un mischione allora ho ragione cosa intendi per un mischione a un mischione la conduzione dei fatti vostri ma non so io non guarda faccio fatica perché vi dico la verità non l'ho mai immaginare mi ha messo il like oh grazie grazie troppo buono giovanni ma avresti dovuto metterlo già all'inizio del video allora ragazzi mettete tanti bei life sotto questo video non vi costano niente vedo solo 11 61 persone online 11 like ma che è ma che è ma che è sta storia qua perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose e non lo so mamma mia brava alessia è così si fa è 12 qualcuno quindi ve lo devo dire praticamente non viene in automatico allora devo prendermi un robottino che ogni cinque secondi metti like metti like una roba del genere vabbè vabbè comunque ragazzi devo chiudere perché è pronto è pronto è pronto servizio siete felici di sapere le novità su uomini e donne e ragazzi tanta roba tantissima robissima e mamma mia quindi mi raccomando mettete un bel like mi raccomando tanti bel like sotto questo video registratevi che ve lo dico fa ricordo per quelli nuovi che mi trovate anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 13 nel canale di coppia nata giusi io insieme alla super giusi trovate qui sotto il link in descrizione per il resto noi ci vediamo tra pochissimi minuti sempre qui stessa spiaggia stesso mare per quest'anno non cambiare vi voglio bene un bacio e a dopo